Il martello, il martello! Dai no! Racconta! Che ragazze ne racconta? No, non so! Racconta! Ma dai dai! Ah, il mio percatto! Non è la maniera! Ma dai, ma non! Ma, non ti percora! Ma non ti percora! Ok, fai la pasta! Che figlio! E' un video coglione! Ma in Margarita ci sono due romani... Due romani che passano un video che passa di tempo in aeroporto e dicono guarda c'è un aero che decolla, imbecilla il deserto